Buonasera, ho qui una presenza inquietante, la vedete qui vicino a noi, forse voi che stanno dietro non la vedono, però qua abbiamo oltre ai relatori annunciati una presenza, un ospite, io non lo posso neanche presentare, non so chi sia, forse posso chiedere al regista della serata, il professor Raffaele Licinio. No, no, ti dobbiamo dire, è la presenza più costante nei film sul medioevo, cioè abbiamo l'onore stasera di avere qui con noi la morte, la morte così come è stata rappresentata in un film, un classico, stupendo, il settimo sigile. Non tutti riescono a vederlo, Maria, la testa non riesce a vederlo, io a volte non lo vedo ed è veramente una presenza inquietante anche perché, devo dire che con il trucco è migliorato, ma rimane sempre inquietante. Sono due giorni che mi mandano le scomuniche, ma io ci tengo, ci tenevo stasera che venisse, perché, lo devo dire questo, avrei dovuto partecipare ai mercoledì con la storia, l'anno scorso, all'ultimo incontro dei mercoledì con la storia che si tenne qui il 25 aprile, ed era venuto, no, si tenne il 25 aprile, venne il professor Cardini e io la sera prima, per colpa sua dovetti ricoverarmi e subire, ormai io ho la tessera degli interventi, subire gli interventi, mi ripromissi di venire qua dopo avere non sconfitta la morte, perché nessuno la sconfitte, ma dopo averla rinviata. È una promessa che stasera si realizza, ma è una promessa che non esce fuori dal nostro discorso. Adesso Atolini ci dirà qual è il ruolo di questo personaggio nei principali film sul Medioevo, lo dirà abbastanza sinteticamente perché capite bene che su questo il discorso potrebbe durare ora. Dopodiché però noi rovesciamo l'andamento classico di questo tipo di incontri, cioè i relatori che parlano e poi alla fine se avanza tempo qualcuno fa le domande. Proviamo a rovesciare il discorso, proviamo a partire dopo la breve introduzione di Vito Atolini da domande che ci piacerebbe che voi faceste uno per volta e noi cercheremo di rispondere secondo le nostre competenze, quella di Tommaso Montefusco e le competenze mie. Per favore non fate domande a lui perché quando risponde anche lui si può dire che è proprio no, gli altri non rispondono più. Raffaele è sempre presente nelle nostre vite come punto di riferimento e soprattutto perché è un grandissimo amico, un grandissimo intellettuale di questa città. Naturalmente vi voglio presentare anche gli ospiti, lui è stato già presentato, Vito Atolini, il critico decano della critica cinematografica della nostra città e poi abbiamo un altro amico e ospite frequente nel mercoledì di Polastoria, a volte che di altre manifestazioni perché anche lui è una persona che si occupa di mille cose ma fondamentalmente è un preside, il preside del liceo cartesio di Trigiano, Tommaso Montefusco. Bene, io penso che l'altro personaggio è stato presentato ampiamente, non so bene che ruolo avrà, sarà appunto un testimone silenzioso ma non sappiamo fino alla fine della serata quello che potrà avvenire, vero? Quindi adesso diciamo, seguiamo il copione del regista da quale vicino, quindi iniziamo con l'introduzione della critica attuale. Prego. Buonasera, il mio compito è un po' gravoso perché devo essere sintetico, ma il titolo dell'incontro è il cinema in medioevo, medioevo che abbraccia un arco temporale di mille anni, quindi immaginate la difficoltà di comprimere mille anni in poche parole. Il tema conduttore scelto con un ospite non credo graditissimo per ciò che richiama, comunque è una presenza costante nella filmografia sul medioevo, ma non è stata sempre raffigurata così come appare con l'attore che è presente, che si è ispirato alla morte del grande film orola citato da Raffaele Sicilio, Il settimo sigillo, film che proprio in questa sala, nell'ultimo incontro, Franco Cardini definì il capolavoro assoluto della filmografia medievale. La morte che è rappresentata nel film, voi ricorderete la scena iniziale, è su una spiaggia, il protagonista Antonio Sbrock, il ritorno dalle crociate, torna sfiduciato, era partito animato da una fede incrollabile, ma l'esperienza della crociata lo ha annichilito. Il primo personaggio che incontra al momento in cui mette piede sulla sua terra è la morte, la morte che dice chiaramente sono venuto a prenderti. Antonio Sbrock chiede una proroga perché vuole chiarire a se stesso le ragioni del suo sconforto, le ragioni della perdita della fede. La morte gliela concede questa proroga perché viene sconfitta in una partita a scacchi. C'è una scena bellissima che anticipa, per così dire, simbolizza tutto il senso del film ed è quando nel dialogo tra Antonio Sbrock e la morte il regista prende in primo piano Antonio Sbrock e fa le domande, poi in controcampo riprende la morte che alza la cappa nera scura e lo schermo viene completamente oscurato. Presagio della futura sconfitta di Antonio Sbrock che però raggiunge il suo figlio. Un errore. Per quale ragione vuoi sfidarmi? Te lo dirò se accetti. Avanti allora. Perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la Sarebbe troppo lungo sottermarsi su questo film quindi passiamo oltre. Passiamo oltre dicendo che nell'arco di mille anni la concezione della morte del Medioevo ovviamente muta profondamente. Vi è una concezione profondamente pervasa da un senso di religiosità ed è quella che caratterizza tutto l'alto Medioevo. La morte viene considerata l'ingresso nella vita eterna e in una società così profondamente religiosa questa concezione era di carattere pervasivo. Credo, e qui i medievisti mi potrebbero correggere, nei documenti del Medioevo quello che rileva è la data della morte più che la data della nascita. Proprio è vero questo, no? Proprio perché è la morte il momento in cui l'uomo fa l'ingresso nella vita eterna. Che significa questo? Significa che anche il cinema questo lo ha rappresentato. Significa che la morte perde la sua terribilità diciamo così. Nel Cantico delle Creature ad esempio Francesco D'Assisi parla di sola morte, sorella morte, quindi un'immagine non terrifica come quella che si imporrà successivamente. Il momento di passaggio fra una concezione religiosa e una concezione diciamo così mondana, terrena, terrena della morte si ha a metà del XIV secolo quando l'uomo si emancipa poco a poco dalla questa chiamiamola ipoteca religiosa e si apre a una concezione mondana, terrena della vita. E nello stesso tempo avverte alla consapevolezza della finitezza del proprio corpo, del suo destino di corruzione. Di qui nasce quindi un'immagine della morte con tutto il suo orrore. nasce anche un'immagine classica in questo periodo, quella della danza maga, che pare che sia di origine orientale. Comunque è un'immagine che diventa familiare alla cultura occidentale ed è la rappresentazione dell'incontro di tre vivi con tre morti. Quasi la raffigurazione del futuro che attende l'uomo, cioè la morte. Questa danza macabra ricorre anche in un film che il Medioevo ha visto in un luce grottesca, cioè il Brancaleone alle crociate. C'è la scena in cui Brancaleone incontra appunto la morte e poi c'è una scena in cui viene suggerita la danza della morte con l'albero dei frutti, diciamo così, sono degli scheletri. La danza macabra è un'immagine, un topos medievale che perdura nel tempo. Nell'Ottocento, per esempio, ci sono espressioni musicali molto note che hanno fatto proprio il tema della danza della morte. Tema poi che deriva da un canto gregoriano famoso, Die Sire, Die Sille, Die Silla, è un motivo angoscioso che è stato utilizzato, non so, Gist ha fatto il Totten Dance, che sono variazioni per pianoforte e orchestra sul tema di Die Sire e si chiama appunto Danza Macabra. Sen San ha fatto la Danza Macabra, un po' in stile salottiero. Berlioz, per esempio, nella Sinfonia Fantastica, nell'ultimo, nel penultimo brano utilizza questo tema della danza macabra. Anche nel Novecento abbiamo una danza macabra del compositore svizzero Arturo Oniager che è entrato appunto da Die Sire e da un testo di Paul Prodel. Ora, fra queste due immagini della morte, qual è quella che il cinema ha sfruttato? Ho citato prima il caso del film di Pupi Avanti, Magnificati. C'è una scena in cui un nobile si ritira con tutto il corteggio dei suoi servitori, si ritira in un posto isolato dove, avvertendo approssimarsi la morte, intende morire. Ma con il Avanti, giustamente, siamo alle soglie dell'anno 1000, quindi ancora in una società profondamente religiosa. Avanti rappresenta questo episodio della morte come un fatto normale, un fatto spoglio di tutta l'angoscia che oggi, credo sempre in fondo, accompagna l'uomo dinanzi alla morte. Ma il cinema sempre preferito, successivamente, rappresentava la morte nel suo aspetto terribile, nel suo aspetto che è emblematizzato dalla danza macabre a cui ho accennato finora. Ecco qua potremmo fermarci, ma chiediamoci le ragioni per cui il cinema ha preferito questa immagine della morte. Lo ha preferito non solo quando ha rappresentato il Medioevo, ma in tutte le sue espressioni che derivano appunto da questa immagine. I film, tantissimi film sui vampiri, in fondo, che cosa sono? Sono la concrezione di questa immagine angosciosa della morte e il vampiro è per definizione il non morto. Questa immagine nasce nell'Ottocento e non a caso, nasce con il romanzo gotico e nasce con l'Ottocento perché? Perché qui, ripeto, qui mi fermo altrimenti non ho più tempo. Perché? Perché? Non ho più tempo. Sono venuto a prendere. Proprio me. Dunque, nasce nell'Ottocento perché? Come chiariremo? Come chiariremo nel colloquio che avremo? L'immagine tuttora egemone del Medioevo è di origine squisitamente romantica, ottocentesca. Qui, ripeto, mi fermo e, come ha detto il professor Dicino, ripartiamo l'incontro così salutarmente anti-accademico e informale e diamo la parola al pubblico. Allora, ci sono domande? chiaramente, chiaramente questa domanda è la concordata. Così si spiega anche perché ho questo testo di cui adesso leggerò due righe. Perché è una domanda necessaria ed è proprio identica il discorso. Perché se parliamo di cinema e Medioevo è garantito che tutti sappiamo che cosa è il cinema. Non tutti sappiamo che cosa è il Medioevo. Quindi, per poterci capire, occorre rispondere alla sua domanda. Dicendo brevemente, che cosa vuol dire Medioevo? Medioevo vuol dire età di mezzo, no? Qualunque età è di mezzo. Noi, esponenti della cultura europea, quando diciamo Medioevo, intendiamo quel periodo tradizionale di mille anni, no? ma le altre culture hanno in sé l'idea di Medioevo. No. A meno che non ci si metta d'accordo che ogni età è intermedia tra ciò che viene prima e ciò che viene dopo. In questo senso, rispetto ai prossimi anni inizia un Medioevo. In questo senso, ogni periodo è un Medioevo rispetto al prima e al dopo. La domanda che veniva fatta è una domanda che richiama il rapporto tra Medioevo ed età buia. E allora, chiariamo un dato. Senza entrare nel merito se il Medioevo sia o no un'età buia, io mi limiterò a leggere due righe di un manuale edizione la terza di storia medievale di uno dei maggiori medievisti italiani che è il bolognese Massimo Montanari, un manuale realizzato qualche anno fa, molto agile, improntato soprattutto all'Europa, che ha un ultimo capitolo che io consideri a tutti di leggere perché fa chiarezza sul fatto, al quale spesso noi non pensiamo, che il Medioevo come tempo storico non è mai esistito. Il Medioevo, dice Montanari, io lo dico sempre a lezione, ormai da anni, il Medioevo è un prodotto culturale, non è un periodo cronologico, è un prodotto culturale. Montanari dice chiaramente che noi vogliamo comunicare un'idea che ci sta particolarmente a cuore, lo dice nell'ultimo capitolo, perché se lo avesse scritto nel primo capitolo ci sarebbe stato uno shock immediato. Il Medioevo non esiste se non come invenzione moderna. Ma che vuol dire questo? Lo specifica dopo, che gli uomini del Medioevo non sapessero di vivere nel Medioevo è una ovvietà che merita di essere ricordata. Fateci caso, nella storia dell'umanità di vivere nel Medioevo. L'uomo che è vissuto in età romana sapeva di essere un cittadino romano o di non essere un cittadino romano, sapeva di vivere in quell'età. L'uomo di età moderna sapeva di esistere in un'età successiva al Medioevo. L'uomo contemporaneo dice io vivo nell'età contemporanea, non dice io vivo nel Medioevo, ma gli unici che non hanno mai potuto dire viviamo nel Medioevo sono gli uomini del Medioevo. Questo è un paradosso, ma fino a un certo punto, perché noi dobbiamo partire proprio da questo. Se ogni età può essere il Medioevo, perché in realtà il Medioevo è un prodotto culturale, si parla di nuovo Medioevo quando la cultura produce qualche cosa che ha bisogno per essere cambiata di un nuovo Rinascimento. Quindi non dipende dall'età, dipende dalla società e dalla cultura in cui viviamo. Se ci definiamo oggi nuovo Medioevo e se chiediamo che ci sia un nuovo Rinascimento. ma questa domanda può essere fatta sempre in qualunque momento. Guardate, la conseguenza del discorso che sto facendo è immediata, è veramente paradossale. Noi stiamo qui per parlare di cinema sul Medioevo, cioè di film sul Medioevo. Se ne volete sapere di più, visto che non avremo il tempo di parlarne adesso. Entrate nel sito www.cinemedioevo.net. Nella prima pagina, nella home page, troverete un link ad un libro virtuale, il Medioevo nel cinema, in cui troverete articoli di Franco Cardini, di Vito Attolini, di Tommaso Montefusco. Non troverete nulla di mio. E poi molte recensioni di film da parte di ragazzi, di studenti dell'università di film sul Medioevo. Troverete anche qualche cosa sulla morte, ma soprattutto troverete anche lì una conclusione paradossale. Cioè i film sul Medioevo non sono film sul Medioevo, cioè non esistono i film sul Medioevo. Scusate, se il Medioevo non esiste, perché è un prodotto culturale. Esiste il cinema che produce immagini del Medioevo, ma non sono film sul Medioevo. diciamo ancora di più, i film sul Medioevo non c'entrano nulla con il Medioevo. I film storici sono tutti i film che sono stati prodotti, girati. Tutti i film sono storici. Dipende da che cosa vogliamo capire che rappresenti. Qualunque film, il primo che vi viene in mente è o no un film sulla società, sulla cultura in cui il film è stato prodotto. In questo senso sono tutti film storici. Ma il film che noi chiamiamo storico, altro non è, liberiamocene una volta per tutte, che è un film in costume. Non che non sia un film storico, ma lo è quanto tutti quanti gli altri. E questo serve soltanto come introduzione alla questione e anche come risposta alla domanda che è stata fatta. Fatene altre perché, ripeto, se poi vogliamo approfondire nel merito dei singoli film, entrate in quel sito, il testo abbiamo voluto metterlo a disposizione di tutti, può essere consultato da chiunque. E lì c'è una panoramica pressoché, diciamo, esauriente sul tema. Adesso cominciamo con le domande non concordate. Non è tanto il libro, la poetica, è una parte della poetica di Aristotele, quella che riguarda la commedia all'interno della quale c'è il problema del riso, il ridere. Secondo, diciamo, un certo modo di interpretare la nostra vita, ma soprattutto l'obbedienza alla del riso, il riso è il contrario dell'obbedienza. Il riso è una forma di manifestazione di autonomia, il riso è una forma di manifestazione, certe volte, di irrisione, mentre il credente deve avere paura. Della divinità bisogna avere paura. Si usa dire timor di Dio, timor di Dio. Se uno ride, diciamo, non è costituzionalmente portato al timor di Dio, si irride. E quindi se bisogna essere dei buoni credenti, non lo dico per noi, questa è una forma della mentalità, del modo di pensare, una del deletante del Medioevo, che non è affatto solo un'età, come viene detto a buia, questa è un'interpretazione dell'Ottocento, come è stato detto. Il Medioevo fu un'età che rise e rise molto, ma adesso non voglio entrare in questo. Comunque, il credente deve avere paura, perché solo se ha paura è più portato all'obbedienza, è più portato al credere, è più portato a, diciamo, aver fede. Chi ride manifesta una sorta di autonomia di pensiero che, ahimè, contrasta con quanto detto prima. Quindi è bene che i credenti non leggano tutto ciò che ha attinenza con il riso. Quindi è vietata quella parte della poetica di Aristotele che sosteneva invece la possibilità del riso. E chi mai avesse l'avventura di leggere quella parte, quelle pagine erano avvelenate, non potrà... Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità. Avete letto quell'opera? No, naturalmente sono sei cosi che è andata perduta. No, non è perduta, non fu mai scritta, poiché la provvidenza non vuole che la futilità venga glorificata. Dunque, perché intanto è una considerazione giusta. In questo senso, mentre le altre età storiche hanno avuto, sono state trattate dal cinema a periodi intermittenti, non con continuità, l'unica età storica invece che non ha subito parentesi temporali nella realizzazione di film è proprio il medioevo. Perché questo? Perché il medioevo è un campo aperto a qualsiasi interpretazione. Il medioevo come età buia, per esempio, è una definizione non esatta, perché è anche il medioevo è anche il medioevo di Tommaso d'Aquino, il medioevo di Abelardo, cioè ci sono delle figure che illuminano razionalmente il medioevo, tutt'altro che buio, però prevale, è sempre prevalsa nel cinema l'interpretazione, ripeto, romantica, ottocentesca, del medioevo come età oscura, buia. L'età romana, per esempio, ha avuto una funzione particolare quando ha avuto il suo momento d'oro nel cinema italiano, per esempio. Il regime fascista aveva individuato nell'impero romano quasi una previsione dell'era fascista e di qui nacquero alcuni film di cui il più famoso è il Scipione l'Africano, che è passata la storia più che per il suo valore, diciamo così, anche se è negativo, per la puntata degli orologi che si intravedevano sotto le tuniche, anche se questa è un'altra sciocchezza madonnale, perché se lo si vede bene il film non so come si possano intravedere orologi di sorta. Quindi le scelte di alcuni periodi storici trattati dal cinema hanno avuto una funzione molto precisa. Mentre il medioevo ha soddisfatto un po' tutte le richieste del pubblico, in particolare quella che poi è sfociata nel fantasy, il Signore degli Anelli, non è medioevo, vero e proprio, ma è fantasy. E c'è il Conan, il Barbaro, per esempio. Però riflettono immagini medievaleggianti ispirate appunto a questa idea, a questa immagine del medioevo al negativo, direi io, perché è un'immagine unilaterale che non comprende il medioevo come età storica, ma il medioevo come campo aperto a tutte le interpretazioni possibili. Di qui la fortuna ininterrotta della filmografia medievale, ma di qui anche i suoi limiti. Sono pochissimi film che hanno trattato da un punto di vista, non direi rigorosamente, ma tendenzialmente storico a alcuni periodi. Per esempio, La Giovanna d'Arcol di Jacques Rivette è un film che il professor Cardini affermò essere quasi un libro di testo, che avrebbe potuto essere studiato proprio come libro di testo nelle scuole e nelle università. Ma, ritorno a ripetere, il medioevo come età fantastica, cioè età in cui c'è tutto il contrario di tutti, è sempre prevanza. Ci sono tre ragioni facilmente intuiti. Una filmografia del genere risponde alle esigenze, alle richieste del pubblico più vario e più indifferenziato. Se la domanda fosse il ruolo che ha avuto la mostra nella società e nella cultura che chiamiamo medievali, la risposta è esattamente quella, con una piccola aggiunta che, diciamo, serve a rafforzare le sue osservazioni, che ricordava proprio Vito all'inizio. Cioè, gli uomini che hanno dato l'esempio di morale nel medioevo, quelli che chiamiamo santi, beati, gli uomini di chiesa, che hanno lasciato un'impronta positiva, anche quelli che hanno lasciato un'impronta negativa, in realtà, non è che muoiono. Rinascono una nuova vita, proprio perché il medioevo e la società è il tempo, quello che chiamiamo medioevo, in cui la presenza della divinità dell'aldilà e dunque della morte è molto profonda. Non sempre in maniera negativa, ma come viene chiamato il giorno in cui muore l'uomo che noi chiamiamo poi santo, viene chiamato Dies Natalis, ed è il giorno in cui noi poi, noi oggi, lo festeggiamo. Quindi San Nicola, qui c'è un regista che ci può spiegare come ha visto lui San Nicola. E noi lo festeggiamo quel giorno lì. Perché? Non perché è nato quel giorno, ma perché è morto. Cioè è nato alla vita eterna, alla nuova vita. Dunque io sono pienamente d'accordo con lui. Però noi stasera aggiungiamo un altro elemento alla discussione e diciamo non solo qual è il ruolo della morte, sempre amica nostra, nel medioevo, ma diciamo anche qual è il ruolo della morte nel medioevo e nei film che si dichiarano film sul medioevo. Perché così facciamo un passo avanti per capire anche il rapporto tra cinema e storia, che è fondamentale. Io insisto sul fatto che il rapporto tra cinema e storia, l'ho sempre detto e lo ripeto ancora, non è un rapporto per cui il cinema riproduce il medioevo, rappresenta il medioevo. È un rapporto per cui il cinema ricrea il medioevo. Quello che vediamo nel film, nei film, non è il medioevo. Con Dio per il sì della Spagna! Con Dio per il sì della Spagna! Con Dio per il sì della Spagna! Una lettura del medioevo. Così come non è il medioevo certamente il romanzo di Eco che pure è quello più vicino al cosiddetto medioevo. La memoria che sia visiva o scritta, parlando di storia, non vale a rappresentare la storia, vale a ricrearla. E la stessa operazione fa lo storico, solo che sono diversi gli strumenti. Lo storico si basa essenzialmente sui documenti e quando i documenti non ci sono, che cosa fa? Reinventa, ricrea. Il cinema che cosa fa? In partenza reinventa, cioè il mondo che ci presenta il cinema. Non ha alcun rapporto con la storia, se non con la storia in cui il film è stato prodotto e girato. Ma se parliamo della storia intesa come i secoli passati, il cinema non rappresenta quei secoli. Rappresenta la lettura che di quei secoli diamo noi, le nostre culture. In questo modo io mi avvicino al tema che cosa è la morte nel medioevo. Da diverse angolazioni, parlando di cinema, c'è la morte che gioca a scacchi con Bloch, ma voi guardate a volte le omonimie. Quel personaggio si chiama Bloch, il più grande medievista europeo si chiama Mark Bloch, anche se quello del film è Antonio, se ha il K finale, non il CH finale. Però questa assonanza ci fa capire molte cose. Ma la morte nei film che si richiamano al medioevo è anche la morte giocosa, della maschera, perché nel medioevo l'uomo muore in maniera diversa rispetto ad oggi. È stato scritto, qui ci sono studiosi del medioevo che lo possono confermare. L'uomo del medioevo non muore mai, o quasi mai, da solo, nemmeno in combattimento. L'uomo oggi muore in grande solitudine. Questa è una differenza. Ed è una differenza, scusatevi, non nel comportamento della morte, ma nella cultura con cui noi guardiamo. Allora... Sì, sono Vittor Giuspotenza, regista indipendente. Ci mettiamo con le spalle al muro. Tranquillo. L'anno scorso abbiamo fatto un'intervista all'attore che ha interpretato la morte nel famoso film. Sì, è venuto a fare. Sì, era Max Polsito. Sì. Però era Antonio Sbrock. Lui era Bloc. Ah, ok, vedo qui. La morte. Sì, i due che giocavano a morte. La morte si chiamava, era l'attore Bengt Eicherotti, che ha fatto... È un'inciclopedia. È un'inciclopedia. Ma io ho detto che sono indipendente su questi... Come sono entrato, dopo mezz'ora di parcheggio, ho sentito che nel cinema non rappresenta del medioevo. Dico, me ne vado. E sì, no, però qui sono tornato anche perché sono il prof. Il cinema però credo che debba... Non debba. Purtroppo è il soggetto delle regole che sono quelle commerciali. Quindi tutti i discorsi di filosofia, di storia e di interpretazioni si vanno a far benedire. Nel senso che se uno vuol fare un lavoro che sia quanto più possibile aderente alla storia, fa un documentario. Eppure anche nei documentari, vedete anche che sono i famosi programmi televisivi, sono farciti di tanti espedienti per attirare. Cioè, chi si vedrebbe un documentario stile anni 50, dove si vede il monaco che gira le pagine e non dice niente. Invece oggi tutte queste esplosioni di colori, di effetti... Cioè, voglio dire, noi siamo presi. È inutile che noi vogliamo far finta di non essere presi dagli effetti speciali. Ma il cinema è fatto di effetti speciali. È inutile. Per quanto noi possiamo dire la storia è bella, ma la storia bisogna reinventarla, raccontarla. Il film di San Nicola che abbiamo girato, ahimè, ma fortunatamente con tanti sacrifici, mi ha posto proprio questo problema, la differenza di come siamo oggi e di come percepiamo noi il meglio. Le ragazzine dovevano, sono setole a comparse, che dovevano lì. Noi non avevamo gli spogliatoi, era tutto onde, mezzo, olec, no? Questo francesismo. Era proprio in aperta campagna. Queste arrivavano. E il camerino dove? Un camerino. Che camerino? Abbalsignano. Abbalsignano. Il camerino. Allì arrivavano e il telefonino lo posso tenere a c'è. Il telefonino. Io poi facevo all'inizio un lavaggio, un giusto lavaggio di cervello. Dicevo, voi, lo so che gridate, leva al San Nicola e ridete, ma voi dovete immaginare, mille anni fa circa, che non esisteva, mamma, c'è un po' di febbre, mi dai l'attacchepine? Sì, chiamo il medico. Dico, qua, c'era niente. Oh, c'era. Non c'era nulla. Non c'era neanche la polizia. Cioè ti proteggevano, ti proteggevano solo chi ti voleva bene. Ma non è che le guardie del vescovo proteggevano il povero malato, non gliene fregava nulla. Cioè non esisteva nulla di tutto. Quindi o vi calate in questa situazione e lasciate perdere tutto il resto, altrimenti non girate il filo. Dov'è la tomba del santo? Che cosa siete dovuti fare qui? Non credo per pregare. Lo volete portare via le ossa di San Nicola? E il desiderio del santo è quello di riposare nella nostra terra. Forse di dire che dopo due ore non si volevano più rivestire con i vestiti moderni. Cioè veramente erano come in qualche modo attratti, affascinati, risucchiati in questo buco nero che è il tempo. È inutile. Un libro, questo libro, un libro di questi, sfogliato ora, oggi, poi oggi state parlando, vi state divertendo che il Papa ancora non è stato fatto, eh? appena arriva. Se sfogliate un libro di questi, beh è un bel libro, ma non vi dice nulla. Provate, provate. Noi lo potremmo fare, ma quello stesso libro, risfogliato fa duecento anni, pieno di polvere, la polvere aggiunge poesia. La mia donna di servizio all'epo diceva perché tu sei disordinato e basta, non c'era. Però la polvere, il disordine, il tempo, l'accumularsi, la polvere cosa rappresenta quando si insiposa? Passare del tempo. Io che sono vissuto e sono nato in una casa del 1600, tra i quadri di Luca Giordani. Io vivevo, quando, cioè oggi i ragazzi, la televisione, allora quando si chiudevano, mi ricordo con mia nonna negli anni settanta, primi anni settanta, andavamo a chiudere tutte le porte. Allora si faceva una piccola processione in Villa Zanche a Palese. Si andava qui dietro mia nonna, più indietro a me, non ti muovere. Si mettevano questi ferrodi di legno con questi cugni che sembrava proprio il conclave. Da qui non si è. E poi dietro ai vetri c'erano solo i guffi, le uppe, c'erano solo questi animali. Cioè io sono stato impregnato di questa cosa qui, riportandola nel cinema, poi indipendentemente da come uno fa il cinema. Il cinema è un qualcosa, sono le atmosfere che tu devi assorbire, perché in realtà volta alla poesia, la lirica, io dico vabbè, nel mondo esiste la lirica, la poesia, la religione, nello spazio dove non c'è nulla, cioè non c'è l'aria. Tanto per cominciare non c'è neanche più audio. Quindi la musica non esiste. Nello spazio dove non c'è aria, la musica, il suono, le melodie non si propagano. È morte già. Questa è già morte. C'è il 273 gradi sotto zero, non si propaga la luce, non c'è nulla. Non c'è nulla. Le molecole a 273 gradi sotto zero sono immobili, sono ferme. Quindi tutta la poesia, la musica, la letteratura, il romanticismo, stanno qui perché non si sa in questo, direi atomo opaco del male, ma non lo voglio dire per una citazione, però è tutto qui. C'è tutta l'emotività, tutto ciò che pulisce nell'uomo. È in questo piccolo atomo opaco. E poi credo che forse ci fosse una frase famosa, il mistero della morte è più grande del mistero della vita. E dopo di questo me li mi sto zitto perché non ho più. Comunque, voglio dire, il cinema dipende, come dire, lui lo può spiegare molto meglio, da tanti elementi, ma quello economico è fondamentale perché al cinema devi portare gente. Il signore degli anelli porta gente perché ci sono gli effetti speciali, i costumi bellissimi, ma poi a loro non interessa se è attinente alla storia medievale o a loro non interessa niente. Tanto per il cinema il medioevo non esiste. E se per il medioevo non esiste il cinema, per il cinema, e quindi il business, il medioevo non esiste proprio, serve per attingere e fare i fatti proprio. E questo è tutto. Grazie. Lui è stato il mio professore all'università, eh? Cioè, non si capisce perché siamo d'accordo. No, io condivido, condivido. E anzi, mi consentite di leggere una classifica dei film sul medioevo? A partire dai loro incassi. Cioè, una classifica fatta da una rivista specializzata che mi sono stampato apposta, eh? C'è qui circa un incassato di più. Si chiama Vuvuvus Coop It Filme Storici. È un blog di uno studioso che si chiama Alessandro Valenzano, lui, e ha pubblicato questo elenco. Sono i primi 25 titoli. Eh? Lui dice che l'ordine può cambiare come disposizione tra di loro, però fondamentalmente l'elenco è veritiero. Cioè, al primo posto c'è il Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anelli. Primo posto. Secondo, Brevard. Terzo, Excalibur. Quarto, Le Crociate. L'ultimo, quello di Scorto. Scorto. Quello che, mo' è per dire, come c'è ragione Vito, il medioevo. Cosa gliene frega al cinema del medioevo? Tanto che lo sceneggiatore di quel film, come tante volte abbiamo detto, no, Vito? Che gliene frega allo sceneggiatore di quel bellissimo film, peraltro, no? Di Riddle Scorto. Di rappresentare una battaglia tra i musulmani e i cristiani. Battaglia che si ha alla fine del dodicesimo secolo mettendo in mano ai poveri musulmani le bandiere dei turchi ottomani che arriveranno nel 1400. Cosa gliene frega a lui? Il problema è che poi si trova il docente nella scuola che utilizza quel film giustamente per sollevare la curiosità dello studente e si mette a lottare contro stereotipi, luoghi comuni che riguardano non soltanto la storia ma anche il cinema. Andiamo avanti perché è significativo. Al quinto posto è incredibile. Di nuovo il Signore degli Anelli, Il ritorno del re. C'è l'altro film. Sesto posto, Il signore degli Anelli, Le due torri. Settimo posto, I sette samurai. No, sette samurai. I sette samurai. Ottavo posto, pensate, ottavo posto, Il nome della rosa. Al nono posto, a te piacerà molto questo nono posto, Enrico V. E poi si continua. Quale? E insomma si arriva al venticinquesimo film che è Il signore degli Anelli. Il signore della bigiotica. No, 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 Giovanni, è Il signore. Quello interpretato da Chanto Néstor e Sofia Loren in cui, film assurdo da rivedere oggi, ma bellissimo dal punto di vista visivo perché c'è lì la Loren che cuce la razzo di Baillet. Bellissimo. Folle come dal punto di vista... Aspira, 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 aspira. No, perché voglio segnalare il fatto che in questi venticinque film non c'è, non c'è il settimo sigillo, che è il più bello di tutto, e non c'è Brancariù. Questo per dire... I biglietti che fecero l'impresa? No, c'è il primo cavaliere ventiduesimo posto. Proceduto al ventunesimo Aimanò. No, ma ha ragione Vito, cioè al cinema non interessa la storia perché il cinema, e questa è la battuta proprio che mi riservavo di fare sull'intervento di uno specialista del settore, il cinema, cito, posso citare? sì. Il cinema, come la memoria, è la possibilità di far accadere il passato in un altro modo. È bellissima questa definizione. L'ha data non uno studioso, ma un docente di scuola che ha scritto unico su questo. E ha detto una cosa, secondo me, veramente illuminante. illuminante. Infatti, per esempio, I bastardi senza gloria, Hitler muore... I bastardi senza gloria, Hitler muore in un cinema. Cosa? Ha inventato la storia. Poi per quanto riguarda lo scandalo a cui alludevi prima di Sofia Loren. E che diciamo allora, che diremmo dell'Ariosto che nel canto nono, credo, fa l'inventiva contro le armi da fuoco? Cioè 500 anni prima che queste fossero introdotte. tutti sanno che non furono certamente gli americani il 27 gennaio ad aprire i cancelli di Auschwitz, ma furono di russi con l'armata rossa che entrò per prima. Però, però, abbiamo detto che il film, in quanto tale, non è un documento storico. Il regista ricrea. Io non ritengo nell'occasione specifica che Benigni abbia commesso un tale errore storico, perché, voglio dire, è riconosciuto ampiamente. Però, però, il docente, il docente, dico questo per difenderlo, però il docente ha un compito. Vi dico come mi sono comportato io, cioè non ho punti di riferimento di altri. La storia del Medioevo non è una storia gradita ai ragazzi. Diciamo così. Prego, non è storia del Medioevo. E diciamo che la studiano per obbligo, perché il professore è cattivo, perché il professore le mette tre, perché il professore interroga, per tante ragioni, ma non perché la amino. Il punto di partenza fondamentale che mi ponevo è invece interessarli, cioè far nascere quella che si chiama amotivazione intrinseca, cioè il gusto per lo studio di un avvenimento, di una pagina storica particolare. E quindi il docente deve selezionare a priori, scegliere il film più idoneo rispetto all'avvenimento che intende trattare. Faccio un esempio classico che ho fatto io. Io facevo sempre, portavo i ragazzi a vedere sempre, Branca Leone. Perché contrariamente a quello che si pensa, la figura del Cavaliere è la più storicamente corretta di Branca Leone. Se uno chiede a un ragazzo, il Cavaliere chi è? La risposta immediata che il ragazzo dà è quella ottocentesca. Il Cavaliere è il defensore degli umili. Il Cavaliere è colui che difende donne e bambini. Il Cavaliere è ricco. Non è affatto vero, il Cavaliere è un miserabile, un bandito. Leone, 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 leone. E' qua! Costretto a girovagare, perché è povero, perché è stato cacciato dai suoi e deve riuscire a sbarcare il lunario a un cavallo, a delle armi fumata bianca, non ci riesce, la storia in questo momento la storia in campo mi veniva da dire fumata bianca a me abbiamo spammato no, non si sa ancora in questo momento qui nomen, si, vi un po' sui, non lo sapete la storia è bella, questa è la storia in diretta in diretta il papa è legato al cinema sul medio libro come per Ratzinger al secondo giorno è stato eletto in basso e non lo sappiamo non lo sappiamo ancora però mentre parlavamo di Branca Leone abbiamo saputo delle elezioni del papa la storia in campo io lo sapevo che tu l'avevi fatto a fuoco oggi che doveva, ero convinto che oggi in questo momento avrebbero fatto è sicuro va bene guarda tutti prima notte perché abbiamo tutti e due fatto una prima notte è un bellissimo film è un bellissimo film di Achille di Campanile Festa interpretato da Pasquale interpretato da, se non sbaglio Carmel Boucher no, Catrice Park Lando Boucher non lo so perché non ci sono arrivato a quel film però è un film che ha destato interesse quando uscì perché sembrava rappresentante una istituzione tipica del medio libro e oggi gli storici tutti concordi compresi quelli come me quelli da pacchioni come me hanno dimostrato documenti alla mano che lo ius primenoptis inteso con un diritto ius nel senso di diritto legale di soggiacere con il signore feudale da parte della donna che andava a marito questo obbligo qui in quanto ius cioè diritto non c'è nei documenti c'è un'altra cosa che io voglio far notare perché spesso dietro gli stereotipi si nascondono per le realtà crude nel medioevo non è esistito lo ius primenoptis è esistito invece molto diffuso lo stupro allora chiamiamo lo stupro questo diritto lo stupro non è un diritto cioè non c'è stata nessuna legge nel medioevo che autorizzasse il signore Ciglani non c'è c'è un bellissimo film del 1909 o 1905 nemmeno tu mi puoi arricchare c'è un bellissimo film dei primi anni del novecento che ha questo titolo ed è un film storico si chiama il telefono nel medioevo non è un film da ridere perché il problema è che ci dovevamo mettere d'accordo sulle parole che usiamo ma perché noi ridiamo immediatamente quando dice stai buon con questa cosa quando diciamo il telefono nel medioevo e tutti logicamente scoppiamo a ridere ma quello non è un film da ridere non è un film comico è un film che sta chiamando con un termine moderno qualcosa che nel medioevo esisteva esisteva vi ricordate lo facevamo da piccoli il gioco delle ramette con il filo eh il baratto anche i segnali eh anche i segnali di fulpe cioè la maniera di comunicare c'era molto forte la cosa strana è che leggevo che dopo la prima puntata dello sceneggiato televisivo eh su Sky di Borgia no no sulla setta sulla setta giusto la prima puntata è andata abbastanza bene perché la gente voleva sapere com'è sta storia dei parapiler la seconda puntata è stata un flop perché perché viviamo in un mondo in cui quello che noi attribuiamo ai Borgia è quotidiano la gente perché lo deve andare a trovare nel medioevo se lo abbiamo noi oggi sotto gli occhi tutti quanti se ci sono tutti questi no che cosa siamo noi? essere umano tranne lui io con qualcuno devo giocare dicevo quello è un problema dibattuto da tutti gli scotici in particolare quello che ci ha impressionato tutti e tre di più è Giorgio Giubi tra l'altro proprio in alcuni libri editi in traduzione italiana dalla testa in vari libri complesso quello sul caladino ma anche per esempio nell'anno 1000 anche sul libro bellissimo perché è come se fosse una sceneggiatura di un film la battaglia di Bovin del 1214 sempre di Giorgio Giubi uno dei grandi storici dell'ultimo mezzo secolo quel tema lì affrontato da mille angolazioni porta però sempre a un'unica conclusione è chiaro che adesso non posso parlare dei vari passaggi cito solo la conclusione lo storico non documenta non rappresenta come il cibo ho detto prima le differenze sono negli strumenti interpretativi lo storico nemmeno crea fa un'altra operazione ricrea che ha in sé anche un altro significato quello della ricreazione questo per quanto riguarda il nostro rapporto con il passato con la memoria ma del resto su questo ha scritto pagine bellissime Jacques Le Goff documento monumento sono tutte cose che non posso approfondire qui la ti vuole rispondere dalla ricordazione no va bene tanto sapete cosa dire scusa il direttore del centro studio non ha no 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 in realtà è una domanda risponde non c'erano messi d'accordo ne posso dimostrare mi metto lontano no no rispondo alla no grazie anche perché poi dirò una cosa un po' controcorrente da partenza allora non eravamo d'accordo il cinema certo inteso come cinepresa macchina della produzione no questo è vero per me esisteva però però almeno secondo me qualche cosa del genere esisteva se ti ricordi ne parliamo a gioia sì io ho presentato questa ipotesi poi mi hanno pure invitato di nuovo quindi l'hanno accettata allora no il cinema è proprio nel sistema ma come parecchi di voi qui presenti sanno non in tutto il medioevo che poi c'è anche questo da chiarire che certe cose in una certa fase avvengono poi non cadono in disuso poi ricominciano e così via diciamo intorno all'anno 1000 all'anno 1100 in quel periodo lì la cerimonia liturgica del sabato santo la risurrezione la messa la risurrezione prevedeva un certo apparato un feghiere e anche perlomeno nelle chiese più grandi che il diacono il sacerdote dall'alto del lambone attenzione non sull'altare quindi in alto in una chiesa che era illuminata solo con una candela o al massimo una torcia quindi un ambiente buio molto simile a una moderna sala cinematografica c'è solo questo occhio di due più o meno si può dire così nasce maestro allora il diare intonava il canto leggendo le parole della preghiera da una pergamena lunga 5-6 metri diversi metri mentre lui leggeva faceva cadere dal srotolava la pergamena che era appunto un prodotto i fedeli che cosa tutti si è fatti intorno in questa atmosfera mistica e così vedevano delle immagini ricche di colori pastose ed era veramente se vogliamo una sorta di cinema antelitteram comunque sicuramente aveva un effetto estremamente suggestivo che poi contribuiva a ricreare quelle atmosfere tanto comode e qui arriviamo al discorso della morte diciamo medievale no? attenzione medievale quella è la congezione cristiana che attribuiva alla morte un certo significato serviva per queste cose io non credo che la gente comune fosse tanto ansiosa di morire per arrivare alla vita eterna tu non sei d'accordo? sono io ansioso di lavorare vabbè grazie volevo aggiungere alla ragazza che ha salvatto il problema siamo d'accordissimo che nel medioevo non c'erano i film come si intende oggi no? la macchina da preso queste cose no però se per esempio pensiamo alla figura di San Francesco abbiamo dei film su San Francesco la Cavania Rossellini ma io posso avere della vita di San Francesco una storia narrata non attraverso parole ma attraverso gli affresti se vado a Padova alla cappella degli Scroregni Giotto mi dà sulle pareti la storia della vita di San Francesco cioè allora quello era un modo per narrare visivamente quindi c'è la parte visiva però la tecnica espressiva non era l'immagine fotografica o cinematografica ma la pittura nei decenni scorsi perché oggi spiegherò dopo perché oggi nessuno più si pone questo problema ma gli storici quasi tutti si sono posti il problema di come se non è accettabile il concetto di Medioevo perché ogni età in fondo è un Medioevo quale termine può in alternativa rappresentare meglio quei dieci secoli che altrimenti non hanno al di là del termine non hanno alcun filo unitario cosa c'è che unisce l'età di Giustiniano VI secolo alla 1400 niente ma noi li mettiamo tutti alla rinfusa sotto lo stesso nome come può essere definito hanno tentato in molti di dare delle di fornire dei termini diversi mi limito a dirne uno che è stato quello più usato per un certo periodo è stato proposto da Jacques Le Goff qui non dal primo venuto che ha detto parliamo di età pre-industriale e allora facciamo sì che l'antico tradizionale concetto di Medioevo si spinga sino ai limiti della rivoluzione industriale tutto quello che è esistito nell'Europa occidentale e in parte in quella orientale può trovarsi sotto un unico denominatore comune che è il fatto che non siamo in una società industriale lui ha avanzato questa proposta la proposta è sensatissima e infatti cominciarono a uscire i manuali non storia del Medioevo ma storia dell'età pre-industriale fai cadere in un altro vito una guarda dura scoperta da l'America o ti fai cadere in un altro vito no non ha fatto la domanda sui miti ma perché veramente era interessata a una risposta che spazi via al Signore lasciamo per l'unico Signore che in questo momento sa che cosa è stato che cosa ha spazzato via questa idea di chiamare in qualunque altro modo più consono il nostro Medioevo il fatto che ci si è resi conto all'improvviso questo è successo diciamo nel 1992 a una data perché fu pubblicato un libro in America poi tradotto in Italia che si chiamava La fine della storia di uno storico Fukuyama Nippo americano questo spiazzò molti storici non solo del Medioevo ma anche delle età moderne e contemporane perché ci si rese conto all'improvviso ma lo sapevamo Santa Pazienza che la storia o è storia globale poi con delle articolazioni al suo interno o non è storico cioè ci si è resi conto che sono entrati nel racconto storico nella narrazione storica altri territori altre culture che non hanno non trovano nessun rapporto con il nostro Medioevo che cosa succede nelle Americhe prima di Colombia vogliamo chiamare Medioevo anche quello cosa succede nell'Asia l'Asia esiste sembra esistere soltanto perché a un certo punto arrivano Kengiz Khan e Tamerlana no l'Ordador quella è l'Asia presente nei nostri manuali nella nostra idea di storia medievale ma il resto del mondo aveva la sua storia questa storia ha reclamato con maggior forza negli ultimi vent'anni il suo diritto di esistere e di essere conosciuto e questo ha spazzato via un termine che riguarda l'Europa solo l'Europa ha avuto il Medioevo tutto il resto ha avuto altre storie che non sono leggibili alla luce del nostro vecchio concetto di Medioevo e che però sono storie fondamentali perché noi quello che ancora per convenzione perché poi può rimanere il termine convenzionale Medioevo l'importante è che ci si metta d'accordo che cos'è noi siamo ciò che siamo cioè è esistito il Medioevo europeo perché c'era la storia del resto del mondo che andava in un altro mondo cioè noi ci definiamo non soltanto con la nostra identità ma con la nostra identità così come è stata realizzata anche dagli altri dalle altre culture questo è stato questo è stato un'apertura mentale che io ho trovato per esempio nella didattica più aggiornata nelle scuole ho trovato gli insegnamenti delle scuole in cui ci sono i docenti più preparati quelli che hanno alle spalle non solo anni ma decenni di discussioni di dibattiti su queste cose e allora è arrivato il momento di dire attenzione noi siamo soltanto una tessera di un mosaico questo mosaico è il mondo la nostra centralità è finita allora io continuerò a usare il termine medioevo ma soltanto dopo aver detto che è un prodotto culturale che che ne dicano alcuni è un prodotto culturale non un periodo storico ed è un prodotto culturale che è frutto della nostra cultura europea non delle altre culture così soltanto così se siamo consapevoli di questo da questo mi creda scaturiscono altre problematiche altri dubbi e altre certezze cominciamo a capire anche meglio come sta funzionando oggi la nostra economia cominciamo a capire che la nostra crisi la storia europea ha conosciuto molte crisi ma questa crisi che stiamo conoscendo non la spieghiamo soltanto con le categorie interpretative prodotte dalla cultura europea è una crisi che ci viene dai paesi che chiamavamo del terzo e del quarto mondo che gridano il loro diritto allo sviluppo a un certo tipo di sviluppo ovviamente e vengono fuori altri temi altri tematiche la domanda è per rimanere al discorso di questa sera la domanda interessante che consegue a questo suo discorso e alla domanda che lei ha posto è questa tutto quello che sto dicendo il cinema è capace oggi di rappresentarlo la risposta è sì basta andare al cinema basta aprire collegarsi sintonizzarsi a un canale televisivo di quelli della tv digitale quanti film prodotti in Asia in India Bollywood quanti film che vengono dalle culture altre rispetto a noi abbiamo molto da imparare dobbiamo smetterla con la nostra presunzione e allora veramente ci si può anche salvare e uscire dal medioevo tra virgolette attuale ma dobbiamo esserne consapenti ma poi ricadiamo nel medioevo prossimo 21 comunque Roberto Vaffer alla fine è sempre quello è quello io metto tutti d'accordo allora con un'apparizione finale con un'apparizione finale se vuoi dire qualcosa no lui non dice a Giuseppe che lo parla la morte parla la stacchera abbiamo una morte che parla con loro oggi mi ha un'apparizione che mi ha stato un'apparizione di Tennescar di Tennescar di Tennescar a contrapporre il per contrapporre ad aver creato il termine aver dato rotazione negativa al termine medioevo per contrapporre l'età classica non so se questo è vero noi da te vogliamo noi da te vogliamo la risposta a un'altra domanda vedrai a giocare a scatti con noi sul tardi possibile questa è la domanda ce lo assicuri ce lo garantisci se diciamo noi lascia andare a scadenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti